buongiorno a tutti cari youtube e benvenuti al nuovo video del mio canale scusate se vedete questa piccola sfumatura nera qua sopra ma se la vedete perchè purtroppo c'è una crepa ho scoperto da poco di tempo di avere una crepa sulla fotocamera del cellulare che non so come si è formata sul cellulare comunque oggi dovevo rifare il video riguardante lo speciale sui manga cosa che ho deciso di abbandonare per il fatto che è troppo ma troppo complicato da fare da solo non ho nessuno che mi può aiutare detto questo quindi ritorno a fare una recensione normale che volevo fare tramite immagini o robe del genere però non ho neanche il microfono per il computer quindi a questo punto vi dovete sortire se proprio volete la mia solita recensione in stile parlo 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 e basta con il ritorno della sigla quindi andiamo subito con la sigla per favore in stile parlo 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 Ho apprezzato tantissimo E che voglio raccontarvi Per il fatto che è comunque stato uno dei primi manga Che ho sempre voluto E che adesso posso leggere E che ho anche quasi finito Che ho acquistato Un po' su internet Un po' su Alla fiera del Cartoon Mix Ed è Io l'avevo considerato un capolavoro Però adesso più tanto capolavoro non è Ma poi lo spiegheremo per bene Sto parlando di Battle Royale Scusate al contrario Battle Royale Io ho qua il 2 E poi tutti gli altri Non ho l'1 Perché lo ripeto l'ho letto su internet Comunque Battle Royale Il titolo di cui parleremo oggi Detto questo Cosa possiamo dire di Battle Royale Battle Royale è un titolo Dove la trama è molto semplice Viene presa In Giappone viene svolto un program Dove viene presa una scuola Una classe di una scuola media Di Tokyo Se non sbaglio Dove i ragazzi E le ragazze Comunque tutta la classe Vengono inseriti in un gioco In un gioco che viene fatto Per creare Sembra dei super soldati Ogni anno viene fatto questo program Che è un gioco dove I partecipanti Devono uccidersi Fra di loro Vengono mandati su un'isola E su questa isola Devono uccidersi Fra di loro Quindi compagni di classe Che si devono ammazzare Alla fine Uno solo non sopravviverà E hanno l'obbligo Di uccidersi Un l'altro Perché se entro Tre giorni Non morirà Ne rimarrà Più di uno Allora I collari Che avranno Al collo Gli farà uccidere tutti Quindi Esploderanno la testa Tutti E quindi Non ci sarà nessun vincitore Moriranno tutti Andiamo a vedere I protagonisti Del titolo Abbiamo Il protagonista Che è Nanahara Nanahara è Un ragazzo Che non vuole uccidere nessuno Che non vuole partecipare Al gioco E cercherà sempre più compagni Nel tentativo di Riuscire a convincere Non partecipare a questo gioco E di Colpire il governo Che Che gli ha mandati Che Ha creato questo gioco Dove tutti Si devono ammazzare E Insieme a Nanahara Ne si aggiungeranno anche Noriko Una sua amica Che Penso sia poi la sua ragazza E un ragazzo Che Che si chiama Kawada Che Ha già partecipato A un'edizione Del gioco Vincendo Vincendolo Mi sembra Due anni prima Poi ci sono Altri personaggi Perché alla fine Le ragazze Le ragazze Sono 42 In generale Quindi Sono 42 Sono 42 Elementi Che si vanno Ammazzare in oro C'è Irochi Che è bravissimo A usare Se non sbaglio La Il Kendo No il Kendo No il Kendo Esatto Il Kendo Poi c'è Kira Yama Che è l'avversario Principale Il cattivo Del titolo È un mafio È una specie Di mafioso Diciamo Poi abbiamo Non lo so Mitsuko Che è una ragazza Che fa Praticamente La prostituta Ed è anche Lei un avversario Tostissimo Per i buoni Anche lei Potrebbe essere Classificata Come nemico La caratterizzazione Dei personaggi Viene affrontata Viene affrontata Abbastanza bene Per alcuni Abbastanza male Per altri Però Va detto Che comunque Sono rappresentati E caratterizzati bene Con tanti flashback Nel passato Del loro passato Della loro vita Che vanno A spiegare Quali sono Le caratteristiche Principali Dei ragazzi Che però È molto Non appesantisce La storia E devo dire Che anche Gli scontri Che si intercettano Tra riflessioni Scontri È una È ben caratterizzata È ben È spiegata Abbastanza bene È posizionata bene All'interno del manga E via dicendo Va detto Che comunque Ci sono delle critiche Riguardanti questo manga Una delle critiche Principali Che ho notato È che semplicemente Per essere Dei ragazzi Delle medie Sembrano già Troppo adulti Alcuni Cioè Fanno delle cose Che ragazzi Terze medie Non dovrebbero fare Hanno un'intelligenza Che Hanno un'intelligenza Alcuni Veramente Oltre la loro età Alcuni Invece Hanno una forza Superiore A quella che Dovebbe avere Un ragazzo Di 13 anni E quindi Molti Scombattimenti Sono un po' Al limite Dell'inverosimile Però Non è una pecca Gravissima Perché Alla fine Ci può anche stare Comunque Ricordiamoci Che è un titolo Dove Ci sono combattimenti Persone che muoiono E anche muoiono Anche molto brutalmente Poi abbiamo Una cosa Un fatto principale Del titolo Che secondo me È Il fatto che Tutti Hanno preso Il gioco Come Con le emozioni Diverse Nel senso C'è chi vuole partecipare No C'è chi Scusa Non vuole partecipare C'è chi ha partecipato Perché Vuole sopravvivere Chi ha partecipato Perché Ha lanciato Una monetina E quindi Ha deciso Il caso Per lui Chi invece È impazzito E quindi Ha perso la testa E ammazza Chiunque trovi davanti Insomma Ci sono Vari tipi Di reazioni Alla loro situazione Che è quella Di uccidersi Fra di loro Di avere Compagni di classe Con cui Si devono uccidere E questo Un po' Caratterizza Comunque I personaggi Principali Devo dire Che un personaggio Ben caratterizzato È quello Di Kiriyama Kiriyama Sceglie tutto Ha basato La sua vita Sullo scegliere Dal lancio Di una monetina Qualunque cosa Lui faccia Ha scelto Lanciando una monetina Come Partecipare al gioco Ha lanciato La monetina E alla fine È uscito Che lui Doveva partecipare Al gioco Il caso Ha scelto Un'altra critica Un'altra critica Che posso fare All'interno Del titolo Il personaggio Principale Nanara È troppo Cioè Non è Non ha ancora Capito Niente Del gioco Cioè Lui vuole A tutti i costi Che tutti Si salvino Ma è impossibile Ma è impossibile In un gioco Come questo Dove tutti Si devono ammazzare Fra di loro E Nanara Non l'ha ancora Capito Non l'ha ancora Capito Infatti Quasi rischia Di andare Come in Dead Man Wonderland Che ho detto Una critica Principale È stato Il personaggio Principale L'eroe Principale Che sembra Un eroe Che non posso dire Censa le palle Che non cresce Non ha Quella particolare Crescita Che è una persona Che è un eroe In un titolo Come ad esempio Battaroya Dovrebbe avere Invece Lui continua A essere titubante Non vuole uccidere Nessuno Ma perché Se trovi uno Come Kiriyama Che passa davanti A tutto quello Che trova E spara A tutto quello Che trova Perché è un folle Perché è un assassino Tu cosa fai Vai lì E gli dici Non ci dobbiamo uccidere Che siamo Tuoi compagni Possiamo Sconfiggere Il governo Insieme Questo qui Ti spara in faccia Cioè È inutile Che vai lì A dirgliela Quello lì Devi uccidere È impossibile Che dici No Io non voglio uccidere Questa è una ara Purtroppo nel titolo Si vede Che non l'ha Non l'ha capita E si intestadisce Nel non voler uccidere Gli altri Anche se Kawada Che ha più esperienza Di lui Perché ha già partecipato Al gioco Mi sembra Due edizioni fa E l'ha vinto Soffrendo anche tantissimo Diciamo che Glielo dice Che non può Fare Cioè Non potrà convincere Tutta la classe A non fare questa roba qui Poi Vabbè Poi va come va la storia Un'altra cosa positiva Un altro approccio positivo È il fatto che ognuno Ha un'arma Che gli viene data Casualmente Durante Il gioco Cioè Un'arma iniziale Che viene catturata E che gli viene data Occasionamente Nel gioco Cioè Puoi trovarti ad avere Un coltellino Piccolissimo Una forchetta Il veleno Quel che vuoi Ma puoi trovarti anche La doppietta Non lo so Una falce Piuttosto che Un revolver Un mitra Quello che ti puoi trovare Ti puoi trovare Cioè Poi giustamente Nel gioco Si può usare Qualunque arma Si dice che si può usare Qualunque arma Però Loro hanno Un'arma di partenza E questo È molto Importante Da spiegare Perché C'è chi ha Oggetti di attacco E chi di difesa Diciamo E questo Diventa Importante Per il proseguito Della storia Io non ho letto Tutto il titolo Perché mi mancano Gli ultimi due volumi Quindi mai sono alla fine Comunque sia Anche se sono alla fine Non sono ancora arrivato alla fine Mi sento di dargli un 8 Perché solo un 8? Perché io sono partito Tu dicevano che era un bel titolo Di quei di idea Allora sono partito Con il fatto Che questo titolo Potesse meritare Anche un 9 Ah poi leggendo Mi sono accorto Che sì È bello Le morti sono abbastanza brutali I personaggi sono caratterizzati bene I disegni non fanno cagare La trama ci sta pure Ma non è Sto Grandissimo Numero Da Titolo Scusate Di cui Di cui Bramavo Il 9 E quindi Io per adesso Mi sento di dargli un 8 Se volevo vogliavo dargli un voto Comunque Io ve lo consiglio E se riuscite a recuperarlo Perché è un titolo molto vecchio Quindi è un po' difficile recuperare Il solito si recupera molto su internet Perché io Una buona parte L'ho presa su internet Ragazzi Prendetelo Perché merita Merita tantissimo Vi faccio vedere anche Come al solito Qualche disegno Del secondo Disegni che non sono assolutamente Fatti male E con Una pagina alla fine Con tutti i ragazzi Che sono sopravvissuti In quel momento Che sono ancora vivi Chi è già morto Quindi Ti rende anche conto Come se fosse un programma Cioè un programma televisivo Alla fine Comunque sia Battle Royale Un titolo che vi consiglio Costa 4,90€ Dai 4,50€ ai 4,90€ Lo so È lunghino È difficile da trovare Però se riuscite Accaparratevelo Accaparratelo Volevo dire Detto questo Io non ho più niente da dirvi Questo era il video Su Battle Royale Che è durato un po' Di più del solito Anche perché ho deciso Forse dovevo anche un po' Cambiare Quello che è I vari Modo di Approcciarmi nei video Perché ho notato Che sinceramente Anche riguardando i video vecchi Sono crollato un pochino Sono migliorato abbastanza Secondo me Però posso ancora fare di meglio E quanto riguarda Una piccola Cittazione Che volevo fare un vlog Anche quello lì Per adesso è rimandato E Non so Se vuole fare un contest Il mio primo contest Perché Io ripeto Sto cercando Una persona Che mi aiuti con i video Che magari ha la stessa passione Per gli anime Per i manga O per i videogiochi E vuole Fare un video Su un canale Un video su youtube Io Sono disposto Anche a Far A aprire il mio canale A un altro soggetto Un altro soggetto Cioè Sia maschio che femmina Quindi Per chi vuole E Nei paraggi Ripeto Di Como Monza Milano E Vuole aprire un video Un canale youtube Si faccia comunque avanti Cioè Nel senso E Non so Se volevo fare Proprio un contest Riguardante Che come premio Davo questa opportunità Di fare video Insieme a me E Cominciare a fare anche qualche video Insieme a me Non lo so Adesso ci sto pensando E Vorrei anche vedere Quindi Io Veramente Spero che qualcuno Gli voglia Partecipare Vediamo Come vanno Le cose In questi giorni Comunque Io vi saluto E vi rimando A un prossimo video Grazie a tutti